Mi aspettavo di trovare quelli che stanno alla farmacia degli incurabili, questa è tutta un'altra cosa. Ah, i paesaggi compaiono. L'alborello della farmacia degli incurabili addirittura porta il nome esterno con l'iscrizione. Eccola. Guardate la ricchezza, le gemme, la preziosità, il Giglio Fiorentino. Meravigliosa. E quindi la ricchezza delle sue vesti si rispecchia automaticamente nelle voce là. Vedete come diventano colorate? Vedete come prendono un'altra fisionomia? Compare l'artista che decora il piatto anche con figure. Sant'Agostino. Guardate, guardate, mamma mia. Eccoli. I medaglioni al centro di questo palazzo sono decorati in ceramica. Cos'è il canadetto? La scala di gigante di Palazzo Urano. A Venezia. Eh? Vomini al centro di questo palazzo. Gli arlecchini. Egli arlecchini. Anche. Avortare gli arlecchini. Vieni bene. Vieni bene.